Oggi vedete la pista da un'altra prospettiva La mia La mia La mia La mia È venerdì sera, siamo al Mugello E oggi abbiamo fatto delle prove libere Sono andate discretamente bene Bene? Molto bene Sono sesto Ho girato forte E adesso stiamo cambiando l'olio, l'olio dei freni, le gomme e un po' di cose per domani mattina Ciao! Ciao ragazzi, è domenica pomeriggio, manca un'ora la gara, ultima gara dell'anno, un gello Che dire, ieri buono, è stata una buona giornata, parto dodicesimo, quindi quest'anno abbiamo fatto dei grandi passi in avanti, sono molto contento, facciamo un giretto Immancabile bandiera, manca il lavoro, c'è la moto, quasi conclusa C'è una bella temperatura al giro, c'è freddo? No Volevo ringraziare tutti, tutti gli sponsor, in particolare Franklin e Marshall, un bacio a tutti Grazie a tutti